Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di Uncharted 4, nello specifico del multiplayer di Uncharted 4, perché in questi giorni ho avuto modo di testare la beta del multiplayer, avendo acquistato la Nathan Drake Collection. Mi scuso se il video arriva un po' in ritardo, sarà peraltro un video molto bello stavolta e mi scuso anche per la pessima qualità del gameplay che vedrete, non tanto qualità a livello visivo, ma proprio nel senso che ho fatto veramente schifo, crepavo ogni due passi, perché quelle che vedrete, anzi quelle che vedrete, sono immagini prese dalle mie primissime due partite che ho fatto, però ho appena avviato il gioco, quindi non conoscevo la mappa, non conoscevo le armi, non conoscevo niente di niente, proprio perché ho avuto pochissimo tempo per testare il gioco e per registrare questo video, tra lavoro e università, è un periodo pienissimo questo, quindi faccio veramente fatica. Ho potuto giocare poco alla beta, ho giocato quel poco che mi serviva, quel minimo che mi serviva per farmi un'idea del gioco, cercare di capire le differenze rispetto al multiplayer degli altri Uncharted, benché non avessi mai giocato tanto. Partiamo proprio da questo punto. A me non è mai piaciuto tantissimo il multiplayer di Uncharted, sapete che questa è una saga, forse è la mia preferita in assoluto, comunque è una saga che adoro, ma ovviamente l'adoro per le storie in singolo dei vari giochi, non certo per il multiplayer, che è sempre stata un po' la parte debole dei giochi di Uncharted. Eppure questa beta è stata comunque in grado di sorprendermi, perché innanzitutto la cosa che mi ha colpito subito è la fluidità, i comandi sono fluidissimi, il gioco funziona alla grande già per quanto riguarda i movimenti del personaggio, le animazioni, la fluidità proprio del gioco, va a 60 frame, che non cannano praticamente mai, anche quando c'è parecchio caos a schermo. Certo, magari ovviamente viene sacrificato un po' il livello di dettaglio visivo, perché tecnicamente è bello, ma non è bello come i video che abbiamo visto nel Uncharted 4, ovviamente. Ovviamente comunque questo vale solo per il multiplayer, perché ovviamente dalla storia in singolo, che non si può provare chiaramente da questa beta, mi aspetto tutt'altro, cioè mi aspetto liberamente il graficone, oltre che la fluidità. Comunque, abbastanza buono è sembrato anche il netcode, nel senso che i primi due giorni sono stati un po' problematici per il matchmaking, ci metteva tanto, anche se poi in realtà una volta entrati in partita non c'erano problemi di lag o simili, ci metteva solo tanto tanto a trovare le partite. Poi dopo, passati i primi due o tre giorni, è stato risolto anche questo problema, tra l'altro sono uscite nell'arco di una settimana, credo, 5 o 6 patch se non sbaglio, quindi il gioco è stato costantemente eseguito e aggiornato praticamente quasi in tempo reale dagli sviluppatori. Alla fine degli ultimi giorni la beta era veramente solita, non sembrava neanche una beta, mai un glitch, mai un problema, mai cari di framerate o lag, niente, sembrava veramente un gioco fatto e finito. Ma parliamo attenzione del gioco in sé che ha anche delle novità importanti, perché secondo me prende qualcosina anche dal multiplayer di The Last of Us, probabilmente in Auditogh hanno imparato anche qualcosa dal multiplayer di The Last of Us che secondo me tra i DPS forse è il migliore in assoluto. E sotto certi aspetti questo me l'ha un pochino ricordato, anche se poi lo vedete anche dalle immagini, la frenesia, le mappe e tutto che ricordano molto più giustamente i multiplayer degli altri Uncharted, soprattutto la frenesia, nel senso che comunque è un gioco da ritmi molto alti, almeno in questa modalità che era Deathmatch, che mi pare fosse l'unica disponibile nella beta, comunque l'unica che io ho avuto modo di provare. Interessante l'introduzione di alcuni, non so neanche come chiamarli, power up diciamo, comunque sono dei talismani che si possono attivare a partita in corso, si possono acquistare con i soldi che si guadagnano giocando, quindi con i punti che fate giocando, facendo uccisioni potete comprare durante la partita stessa questi power up, tra i quali ad esempio la possibilità di evocare dei bot che variano in base a quello che avete equipaggiato, ad esempio c'è il soldato tutto corazzato tipo SWAT, c'è il cecchino, c'è quello che ti corre dietro a portarti le munizioni, insomma, diciamo, quello di supporto, ecco. O altri vari tipi di poteri anche un po' più mistici, presi dalla mitologia che abbiamo visto nei precedenti Uncharted, con tanti richiami anche giochi precedenti a livello di personaggi, di oggetti, di poteri, queste cose qui. E ho gradito anche molto di più il tono più scansonato e leggero di questo multiplayer rispetto ai multiplayer dei capitoli precedenti, che si prendevano più sul serio, secondo me, e invece questo è molto più ironico, molto più leggero, leggero proprio, molto molto immediato. Comunque ripeto, purtroppo ho giocato poco per avere un'idea un po' più chiara di questo multiplayer, resta il fatto che vi posso dire che mi sono divertito parecchio col poco che ho giocato, e ho avuto la sensazione che stavolta questo multiplayer non sarà un semplice, direi quasi riempitivo per completare l'offerta, ma ho come l'impressione che i Naughty Dog ci abbiano lavorato parecchio sul multiplayer, e ci puntino anche un po', ovviamente il piatto forte resterà la campagna, chiaramente, però il multiplayer non è lì per fare la sua comparsa e basta, almeno questa è stata l'impressione. Quindi per ora, per questo video, su Uncharted 4 è tutto, adesso resto in religiosa attesa del gioco completo, ormai mi mancano pochi mesi. Fatemi sapere voi che ne pensate, se avete comprato della Nodan Drake Collection, avete quindi avuto modo di provare anche voi questo multiplayer, o comunque cosa mi pare dei video che sicuramente avrete visto sul web. E niente, io mi fermo qua, lasciate un like se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto, ciao ciao!